Musica Buongiorno a tutti, qui è TheStrager46 ed oggi sono qui per un video tutorial Questo tutorial mi è stato chiesto da un iscritto Evviva i primi video tutorial per gli iscritti Comunque ragazzi, iniziamo subito a spiegarvi cosa considera questo nuovo video tutorial Allora, questo iscritto, scusa non ricordo il tuo nome perché l'ho letto poco fa, non riesco a ricordarlo Comunque, mi è stato chiesto di spiegare come utilizzare il MultiMC Che è praticamente questo programma che ci permette di utilizzare più cartelle di Minecraft Come ben saprete, se noi andiamo in %updata% Che è la folder in cui viene installato Minecraft, quindi in cui viene messo il punto Minecraft Se ne potrà creare solamente uno, OnlyOne Allora, come fare a rimediare a questo? Naturalmente qualcuno vuole creare magari una versione moddata in cui mettere le sue mod Invece un altro vuole tenerlo vanilla E si crea una situazione un pochino di cac, chiamiamola così Semplicemente questo Solitamente la gente scarica MultiMC per questo Ma anche per dare più ramo a Minecraft Ma di questo parleremo più tardi Adesso vi spiegherò come creare un'istanza C'è una cartella di queste Adesso avevo creato una cartella perché prima ho provato a fare il video Ma ho fallito perché non so se hanno annullato la registrazione Comunque, l'iscritto si lamentava che non trovava queste cartelle Allora, per creare una di queste cartelle Basterà semplicemente fare add an instance E poi metteremo l'instance name In questo caso posso mettere esempio Puoi dare un qualsiasi nome E qui si creerà la tua istanza La instance Adesso, per sssp Basterà fare view folder Poi andiamo in %updata % Fai copia e incolla del punto Minecraft Che è possibile, diciamo, scaricare dal Minecraft SP E si incollerà dentro la cartella Esempio O comunque la cartella della tua istanza Scusate la mia voce ma Ieri sono andato a un concerto e cazzo Non ce la faccio più Proprio un altro poco mi sa che se ne va pure la voce Ho la voce mi sa roca, abbastanza roca E abbiamo creato la nostra istanza Adesso se sei offline Se sei SP Metti play E metti play offline E... La tua istanza partirà Adesso Chiudiamo questa istanza Ed ecco qui Tutta la cosa che dovevi fare per creare un'istanza E giocare In SP Allora Unico problema del Minecraft Del multi-MC E' che quando vai a giocare online E se SP Il tuo nome non sarà Quello dato nell'username Adesso se tu metti E metti play offline Ti chiamerai offline Quindi è uno dei L'unico dei problemi Però se sei premium Metti il tuo nome Il tuo nome Ti puoi chiamare Che ti ha bisogno di avere una password di merda E metti login Ti loggerà E... E potrai giocare tranquillamente Qua poi abbiamo Remember username Che ricorda il tuo username Quindi dopo che inserirete Il vostro username Lui lo ricorderà Quando farete il login Vi ricorderà anche la password Se spuntate questa casella Ma questo qui E' una cazzata Non so perché l'ho detto Comunque Adesso ragazzi Come allocare più RAM Con il nostro multi-MC Semplicemente Tocchio prendiamo la nostra istanza Andiamo a settings Andiamo ad advanced E qua avremo Minimum memory allocation E maximum memory allocation In questo caso Basterà alzarla Questi qui sono i megabyte Quindi 2048 megabyte Sono 2 giga 3072 invece sono 3 E poi Vabbè Abbiamo Ne abbiamo altri Andando avanti Si hanno Maggiori quantità Dipende dalla vostra RAM Ragazzi Se avete un computer Che vi arriva al massimo 2 giga Sicuramente non allocherete 2 giga Ma nellocherete 1.5 Massimo Quindi Niente Ecco qua Il tutto Di questo minecraft Multi-MC Con multi-MC però Si possono anche Montare delle mod Ma di questo qua Ne ho già parlato In un video Precedente Uno delle Dell'angolo delle mod Il secondo video Quindi ragazzi Vi consiglio di andare a vedere Se siete interessati A moddare il vostro minecraft Utilizzando il multi-MC Quindi ragazzi Penso che Data Stryker Quaranzai Possa essere tutto Vi invito ad iscrivervi Se non siete già iscritti E se il video vi è piaciuto O vi sono stato utile E vi sono stato utile Perché Niente ragazzi Noi ci vediamo Nel prossimo video Bye bye Bye